Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Io tratterò e svolgerò il mio intervento sulla materia indicata che è già stata affrontata, seppur in maniera sintetica, da alcuni degli interventi che mi hanno preceduto. Noi siamo tutti ben consapevoli del fatto che l'iniziativa dell'Onorevole Pini della Lega Nord in materia di responsabilità civile dei magistrati non sia una trovata né estemporanea, né improvvisa o imprevista, né basata su sole intenzioni punitive o preventive nei confronti dei magistrati. Già poco tempo dopo l'esito del referendum abrogativo del 1987, ricordo che aveva risposto sia all'abrogazione delle norme del vecchio codice di procedura civile, oltre l'80% dei voti validi espressi, e poco dopo la promulgazione della cosiddetta legge Vassalli del 1988 cominciò a formarsi la convinzione di una sostanziale inutilità e inefficacia della legge stessa, rispetto alle finalità perseguite e approvate con il referendum. L'esperienza e la prassi di questi quasi 25 anni hanno confermato le iniziali perplessità e il paventato rischio di vanificare ogni possibilità di tutela per il cittadino leso. E non è forse un caso che la percezione dei cittadini e dell'opinione pubblica nei confronti della responsabilità dei magistrati sia orientata nel senso di ritenere la normativa vigente assolutamente insufficiente e da riformare. Questa è la situazione, a mio modo di vedere, di fatto e in diritto dalla quale partire e sulla quale riflettere. Non c'è parimenti dubbio che l'iniziativa emendativa della Lega Nord presenti tecnicamente e sostanzialmente connotati al contempo di pressapochismo e di provocazione, tra l'altro forieri di contrasti tra norme e procedimentali, peraltro ripetuti nel tempo fin dalla discussione dalle votazioni relative alla legge comunitaria del 2010, prima ancora che a quella del 2011 in corso oggi di valutazione al Senato, anche se ha per così dire questa proposta emendativa il merito di riproporre un tema che il Parlamento e i partiti, compreso il Partito Democratico, non possono non affrontare. Gli aspetti più rilevanti attengono principalmente, oltre che a implicazioni politiche, al profilo giuridico che spazia dall'ambito del diritto comunitario a quello costituzionale nazionale, preplanare su quello dell'applicazione concreta della legge ordinaria e del funzionamento o malfunzionamento, per meglio dire, della macchina della giustizia. Primo aspetto, legge comunitaria. Non è innanzitutto vero che l'insieme delle norme contenute nell'emendamento Pini sarebbe imposto allo Stato italiano da una serie ben nota di sentenze della Corte di giustizia europea. Anzi, è vero che, relativamente alla principale questione concernente la citazione diretta in giudizio del magistrato, le norme dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, nonché le statuizioni della Corte di giustizia europea, fanno esclusivo riferimento alla responsabilità e alla citazione diretta in giudizio dello Stato. Basta leggere tranquillamente tutte le sentenze chiamate in causa per rendersi conto di ciò. E si potrebbe sfidare chiunque a trovare un passo di sentenza europea che imponga, o anche solo consigli, l'istituto della citazione diretta del magistrato. Basterebbe questo per affermare la irritualità e la inammissibilità della proposazione dell'emendamento sulla citazione diretta dei magistrati in sede di discussione di una legge comunitaria. La questione è talmente più ampia e talmente delicata da meritare una sede più adeguata con tutte le problematicità e con tutti gli approfondimenti che merita. È vero, peraltro, che la parte dell'emendamento che parla di violazione manifesta del diritto trova un addentellato in alcune sentenze europee, ma è certamente strumentale approfittare di questa convergenza parziale per passare dalla invocata dalla Corte europea responsabilità dello Stato a certe condizioni alla responsabilità diretta del singolo magistrato. E dico questo perché i problemi che si vorrebbero risolvere, se diamo per scontata la buona fede di ognuno, seguendo la strada segnata dall'emendamento Pini, verrebbero invece pesantemente aggravati e moltiplicati. Non è certamente casuale il fatto che nessuno dei Paesi europei, nemmeno la Spagna e tantomeno Stati extraeuropei, prevedano al proprio interno una disciplina per la responsabilità diretta del magistrato. È ben vero invece che deve esistere, deve essere fatto funzionare un sistema che consenta al cittadino di ricorrere nei confronti dello Stato per danni subiti ad opera del magistrato alle condizioni specificate, ad esempio, sia dal nostro ordinamento che dalle norme dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa. Se questo sistema non funziona come attualmente non funziona, è dovere di ogni Parlamento e di ogni forza politica fare in modo che vengano adottate norme efficienti e funzionali nel solco dei principi fondamentali che regolano ogni ordinamento a tutela dei diritti della persona. E qui entrano in gioco altri profili più interni che internazionali. Una volta da noi riconosciuto il principio della responsabilità dello Stato in subietta materia e una volta riaffermato il principio della responsabilità del singolo magistrato per la fattispecie del dolo e della colpa grave, va sgombrato il campo dalla non meglio precisata ipotesi della manifesta violazione del diritto. Ora, a parte la non risolta ambiguità della dizione letterale, ci si riferisce al diritto positivo o anche alle variegate interpretazioni giurisprudenziali? E quale profilo soggettivo deve essere considerato? E perché poi si passa dal diritto comunitario al diritto interno? Dizione letterale ambiguo, diceva, pare però che l'aggettivo manifesta, così indicato, dovrebbe risolvere ogni dubbio. E quindi parrebbe che l'ipotesi della manifesta violazione del diritto dovrebbe già ritenersi ricompresa nella fattispecie quantomeno della colpa grave, se non addirittura in quella dolosa. Se manifesta è manifesta. Come si può rifiutare di applicare una norma manifesta? Non comprendo i timori in merito. Ne consegue che l'insieme delle discussioni, delle diatribe su questa ipotesi di violazione manifesta dovrebbe venire meno proprio perché già prevista dal diritto vigente. O quantomeno basterebbe meglio precisare la norma apposita e specifica già esistente, al di là del fatto che si tratti di norma europea o di norma nazionale, senza timori e consenso di responsabilità. Rimane ovviamente ancora in piedi la questione principale, di fronte alla quale non ci nascondiamo e non mettiamo la testa sotto la sabbia. Si tratta sostanzialmente di riconoscere l'esistenza di diritti fondamentali che potrebbero confliggere ed entrare in rotta di collisione tra loro. Da una parte il diritto della persona alla riparazione del danno dalla mala gestio della giustizia, della macchina della giustizia, così come condotta da un magistrato, dall'altra parte un duplice principio, quello di garantire la imparzialità e l'indipendenza del magistrato, elementare principio di civiltà giuridica, e quello di garantire il funzionamento della macchina della giustizia, funzionamento lineare, trasparente, corretto, nell'interesse dello stesso cittadino più che del magistrato. Se questa, come ritengo, debba essere l'ottica dalla quale muovere, osservo come la proposta emendativa Pini stravolga ogni logica e ogni principio costituzionalmente garantiti. Non arrivo a dire che l'emendamento sia caratterizzato da un vizio diretto e immediato di illegittimità costituzionale. Non ho dubbi però in ordine al fatto che le conseguenze pratiche e le conseguenze concrete sarebbero quelle di determinare uno stato di pressione, di intimidazioni, di paralisi della macchina giudiziaria, non solo quella penale o civile, ma forse ancora di più quella amministrativa dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato. In tal modo si giungerebbe ad una gravissima lesione della legalità costituzionale. È la stessa formulazione dell'emendamento passato alla Camera dei Deputati che determinerebbe questo blocco, perché l'azione diretta contro il magistrato potrebbe essere proposta, mentre è ancora pendente il giudizio davanti al magistrato convenuto a sua volta in giudizio e a seguito di citazione diretta. Infatti per tale azione non richiamato il disposto dell'articolo 4,2 della legge dell'88. È evidente il rischio che si correrebbe, duplice, nei confronti sia di un magistrato sgradito, sia nei confronti di un giudizio, diciamo, sgradito. Ricordare qui certi delicati procedimenti per importi anche enormi davanti ad esempio ai giudici amministrativi non costituisce esercizio di pura accademia. E a ruota non vanno dimenticati i rischi, direi addirittura le certezze, di astensioni o ricusazioni dei magistrati citati direttamente in giudizio, con il reale e concreto effetto di far letteralmente saltare i processi, particolarmente quelli per i fatti più gravi e delicati. Vogliamo davvero bloccare tutto? Questa sarebbe la strada. Ognuno se ne assuma palesemente la responsabilità sociale e politica. Ma detto questo è altrettanto evidente che va posta a mano alla normativa vigente. Credo che noi non dobbiamo tirarci indietro e che dobbiamo individuare il percorso più adeguato. E a questo proposito preliminare che si abbia il coraggio, si abbia la forza da parte di tutti di ragionare, ma per davvero affrontando il problema responsabilità civile dei magistrati nella sede corretta, abbandonando istinti da vendetta tribale, apprendo a un disegno di legge autonomo che coinvolga il Parlamento come il Governo, che raccolga le sollecitazioni provenienti dal vertice del Consiglio Superiore della magistratura, come dall'avvocatura, che ribadisca il no alla citazione diretta del magistrato, ma che si dimostri disponibile a dialogare sugli altri aspetti delicati. Quello, ad esempio, del cosiddetto filtro è quello della rivalsa dello Stato sul magistrato ritenuto responsabile. Le chiusure a riccio, peggio ancora quelle ideologicamente ottuse, non fanno del bene ad alcuno, anzi costituiscono il miglior prodromo per uno scontro e per una pessima normativa. Ritengo che il Partito Democratico non debba temere queste discussioni e che possa essere il garante per la tutela dei variegati interessi confliggenti, tutti però costituzionalmente tutelati, pur consapevoli del rischio di possibili trabocchetti parlamentari, come quello del voto segreto, in presenza di una composizione delle Camere che soffre ancora della vecchia alleanza e maggioranza popolo della libertà Lega Nord, soprattutto in tema di giustizia. Grazie.